Lo schiaccio, lo schiaccio Ok, benvenuti ragazzi, sono Agisius Ed è scatenato Quindi, ah, è vero Tu sei Alex, magari Sì, io sono Alex Oggi siamo su Antichem, ragazzi, allora Allora, premessa, premessa Premessa che eravamo contro un muro Premessa che, allora, ragazzi Io e Ale abbiamo fatto almeno 5-6 video A tentare di capire come andava Andare avanti, non ce l'abbiamo fatta Non ce l'abbiamo capito un cazzo Non riusciamo a trovare l'ultima pistola, allora cosa abbiamo fatto? Da bravi giocatori Scusate, dovevo attivare il timer Nel giocatore abbiamo guardato le soluzioni Perché non si poteva Era infattibile E sappiamo come fare Quindi Abbiamo visto solo dove andare Ok, ragazzi Andiamo a destra che ho sbagliato io da coglione Favamo andare lì, giusto? Bene, bene Ok, fermati, fermati, fermati Ancora fly Cosa fai? Figata, puoi togliere questo? Ragazzi, questo è l'inghippo Cioè, uno come fa a sapere che questi sono? Non lo spiegate? Ragazzi Allora, ragazzi Il modo per proseguire è alquanto obi Ambiguo Allora Una volta Allora Avete presente che qua c'è una cosa incredibile? L'universo Nel palmo delle vostre mani Presente? Ok, ragazzi Ce l'abbiamo fatta Allora Modo più veloce per farlo Prendete così tanti cubi da fly Che fate una torre talmente alta Vedete? E io ho fatto anche il ponte adesso Per sicurezza ne faccio un altro Perché non voglio carica Sì, adesso cado È sicuro Ti uccido se cado Fai tutto, tutto proprio Cado adesso Tanto cado l'ho già apposta No! Dai Lo faccio io Qui Andiamo avanti Ah, perché forse ho troppi cubi Cioè Oddio Dove cazzo siamo? Ma dove stai? Mi sta facendo questo Vabbè Andiamo Ok, ragazzi Sì, quindi ce l'abbiamo fatta A far quella roba lì Dopo tre ore Non importa quanto a Toscani C'è sempre Più da fare Oddio, qua altri cubi da mettere Ma noi ne abbiamo un bordello Quindi Ma mi sa che non si possono mettere Infatti li possiamo solo spostare Che bella notizia Bellissimo, ragazzi Questo suicidamento Abbiamo aperto la porta così a culo Uuuu Red pistol Non vuol dire niente Ma chi se ne frega Arriva un momento in cui il tuo lavoro Aspetta, arriva un momento in cui il tuo lavoro Cioè, praticamente trovi un modo per passare attraverso tutto Ok, cosa tu dici? Di bello non vedo niente Ok Quello del maf Se tengo un punto Questo più questo Cosa mi fa? Ah, bisogna essere veloci Ok Ok, rifacciamo Che se ne so io che si rifanno Ok Vai veloci Vai veloci Vai veloci Sono passato? No, ok Adesso si E invece qua Bisogna riempire ragazzi Riempie la pistola Guarda quanti comuni rossi che ho Guardate che figata Figata la pistola rossa Questa è la fine Sono sicuro Sì 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 Adesso c'è l'uscia Ah per ragazzi Non possiamo uscire Cos'è sta merda? Vabbè chi se ne frega Perché io ho guardato le soluzioni Vi ricordate? Quindi so come si fa Quindi non me ne frega più un cavolo Di questo Ce ne torniamo alla fine Davvero Ah già Vuoi finire il gioco e basta Sì Non me ne frega più un cazzo Poi ancora up Che abbiamo superato Ok 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 Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Abbiamo dei cubi Così servono i cubi Ok ragazzi Adesso che abbiamo un paio di cubi ragazzi Il potere di questa pistola va oltre all'immaginazione Guardate 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 cosa fa Guardate cosa fa Da un semplice paio di cubi Cioè guardate quanti ne fa Figata Cioè avete capito Voi avete un cubo Basta avete vinto Avete conquistato tutto muo Guardate 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 Cioè ho riempito la stanza Ho riempito la stanza Ok ragazzi andiamo Dettagli tecnici Torniamo indietro alla fine Ok fammi passare Fammi passare Fammi passare Metti i cubi sugli occhi non va bene Gli viene la La cubietto mia La cubietto mia Cati Ok ragazzi Adesso Si sa mai che mi si cancellino tutti Quindi ne metto un po' qua Ok ragazzi L'unico modo per farlo E dove non c'è Vedete che in fondo Non c'è il coso Voi dovete fare così Però ho sbagliato Ah no Deve c'è il giusto Poi praticamente dovete assorbire i cubi che ci sono Ah beh basta no Eh devo riempire tutta la stanza Si 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 Praticamente riempite tutta la stanza Non riempite tutta Dicevo riempite tutta la stanza Solo che se non vedo quanti ne sto mettendo Ok lo riempite tutta E dopo li togliete tutti Figato In questo modo Solo in questo modo Potete passare Verso la fine Quindi Ne mettiamo tutti qua Quindi ne lasciamo un po' qua Si sa mai Ma non penso Anche perché posso moltiplicarli Posso passare No Qua No non posso Ah me li tengo Oltre tutto Bello Qualcuni problemi non possono essere risolti Finché tu non hai abbastanza esperienza La fine La fine E me li ha tolti tutti Oh Oh Motherfucka Yeah Dai Andiamo 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 Si il giallo non me ne frega niente Il verde Oh il coponero Muori Assorbilo Assorbilo No c'è il vetro Bastardo Non scamperai Io era nero bastard Oh merda Come si sale Non c'abbiamo cubi Ah no c'è un troppolino Davvero Qua Wow Ce l'ho fatta Sono un fottuto metodo Bene andiamo avanti Andiamo avanti Dobbiamo seguire Oh oddio perché c'è ancora la parte Cubo nero Non me ne frega Cubo nero Cazzo vado andare Ma mi è invidiato Ah di qua forse Di qua di qua No sei pieno di tornare No no Si siamo benvenuti di qua Allora di qua Scusate ragazzi Un po' confusio Ok Ancora questa cosa No tu mi pidi per il culo Però Beh Dobbiamo farlo una volta Mi sa e dopo Si sistemeranno la cosa Si si Fucsia No invece no Invece cosa cazzo fa Invece mi trolla Alla grande Fa andare all'indietro No non mi fa andare all'indietro Perché vedi Adesso c'è una nuova via Qua Yey Ah qua c'è un trampolino Perché il mondo Oddio mio Ce l'ho fatta Bello bello Cos'è Ok oh Questo è il mio ricordo Andiamo 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 Guarda Troviamoci nel non lo so Oddio Ambarabbacci Cicco Il bianco Il bianco Punto tutto sul bianco Ah si ci va Punto tutto sul bianco Blu Verde C'è un passato Sono passato Va bene Dove sono Oddio si sentono strane voci Ah se non c'è il sole Oh mio dio Cosa c'è Ah ma lì c'è un'uscita C'è un'uscita da qualche parte Boh E' qualcosa che gira Cos'è Perché Ah non devo guardare Tutto qua Pensavo fosse qualcosa di più complicato Ok ci abbiamo fatto Ci abbiamo fatto Inseguiamolo 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 Dai dai Corri un po' tu Vai Dov'è dov'è Non lo so La luce La luce Perché è gialla Perché c'è Sauron Perché è tutto contro Cos'è quel coso Wow Cos'è Ti manda contro Sauron Ah devo guardarlo Ah ok Dopo devo saltare così Ah Ah devo continuare a guardarlo Oddio va a tempo Adesso Adesso Che culo I ragazzi stiamo andando a casa Vai tu dai Oddio Cosa sta merda Ah ma l'avevamo già vista sta merda però Oh Il nostro amico verme C'eravamo già entrati Amico verme Oddio cosa c'è No Ho vendato Ah è passato oltre all'obbio a scendere Oltre all'obbio a scendere Ah Poi lo scale si forma Oddio 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 cos'è sta roba Oddio 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 Non scompo Ok tu vai avanti che io cammino No ragazzi lo finiremo nella prossima parte Quindi se vi è piaciuto lasciate un commento Mettetemi mi piace Iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi Ciao bomba Magari diventa chi contro Bomba non esplodi Bomba non esplodi Ti do un pugno Ti do un pugno bomba Ti do un pugno bomba Guardate non esplode Eh perché Oh L'ho lanciata Ok